Purtroppo è comune, purtroppo è diffuso, devi saperlo affrontare. Ciao ragazzi, bentornati su Officina del Pilota, sono da Domenico Gasparro, oggi ci occupiamo della Subaru. Buongiorno, come stai? Buongiorno, porca miseria. Sei un grande. Tutto a posto? Oggi ci divertiamo, andiamo a fare qualcosa di un po' più tecnico, un po' meno usuale. Voi se le carichi, restate sul canale, occhi aperti, oggi si spizzano cose divertenti. In questo video, insieme all'aiuto di Domenico Gasparro, vi faremo vedere come si effettua correttamente uno spot repair e come si risolvono alcuni difetti di verniciatura del trasparente, dove, come vedremo, la vernice non si è stesa bene e ha creato dei buchini. Allora, per i buchi più profondi andiamo a fare un piccolo intervento localizzato, ovvero una goccina di trasparente rapido per colmare il buco. Questo trasparente è un trasparente rapido, 20 minuti all'aria e si asciuga, ideale per fare spot repair, piccole cose, cose di questo genere. Ovviamente non è ideale per fare dei completi o delle parti grandi. Ovviamente dopo questa operazione, una volta asciugati queste gocce di trasparente, andranno ulteriormente levicate, spianate e riportate tutte sullo stesso livello per poi dare il trasparente. Praticamente noi andiamo come se andassimo a stuccare questi buchi, li andiamo a riempire in maniera un po' grossolana, però una volta che poi rispianiamo, di fatto il buco è riempito. Adesso si è essiccato, è perfetto ed è pronto per essere spianato. Vediamo come queste parti qui, dove abbiamo fatto i ritocchi, vengono spianate. Vedi, tipo questo, l'abbiamo fatto, è perfetto, vedi? Ma pure sì, è la mattina di qua. Eh, va bene, va bene, è perfetto. Ma questo è urbano, ma mica me lo so inventato. Questo devi dire, non me lo so inventato io. Il ritocco a pennello, l'ha inventato urbano, il carrossiere più forte di Roma. Poi un giorno vi ci porto. Comunque ragazzi, mo lo dico proprio stretto stretto. Io non sto geloso del mestiere, vedo tutte queste dritte, ma tutta sta robetta. Sono tutte perle che non è che cascano dal cielo. A me, i verniciari de' una volta. Così proprio. Perciò, occhi aperti, tenemoteli per i fatti nostri su queste cose. Ne dite all'altri, eh. Adesso tutti i professori poi non ci capiscono un cazzo. Qui che cosa andiamo a mettere? Questa spugnetta, questo nastro fatto apposta, che non è un nastro che delimita in una maniera netta, il prodotto nuovo che va sul, diciamo, il supporto. Quindi lo sfuma di per sé, lo infrange, lo polverizza un po'. Questo fa sì che nella fase successiva, che è quella della lucidatura, non ci sia un taglionetto. Si fa la sfumatura. E questo nastro serve a fare proprio questa operazione qua. Allora, ragazzi, oggi abbiamo visto come affrontare correttamente uno spot repair. Cosa si intende per spot repair? Lo dice un po' il termine stesso. Uno spot, cioè quindi un posto molto limitato, è una riparazione. Normalmente si intende una riparazione che sia rapida e circoscritta, in un'area relativamente piccola. Ecco perché spesso, e qui ne abbiamo due esempi, si va per sfumare il supporto e non a completarlo in tutto. Ora che succede? Adesso noi lo abbagniamo così, anche per fare un check, no? Con l'antisilicone. L'antisilicone a cosa serve? Serve per sgrassare il supporto, prepararlo alla perniciatura, levare quelle che possono essere le patine dovute dall'abrasione del trasparente, un po' di, diciamo, di spolvero oppure di sporco in generale. Dei residui di silicone potrebbero essere stati il problema di queste, come chiamiamoli, abballamenti? Allora, il problema del buchino che siamo andati noi a risolvere è un problema assai comune. C'è chi li chiama occhi di pesce, insomma, sono delle piccole schivature, cioè il trasparente non riesce a essere uniforme, ma crea queste piccole imperfezioni, un po' come l'acqua nell'olio o cose similari. Capita a tutti, regà. Capita pure a noi, professionisti, dentro i forni. Perché capita? Cento motivi, cento motivi. Abbiamo messo un deterante più aggressivo, abbiamo una mano sporca di un qualcosa, abbiamo passato la mano, che ne so, sulla plancia del cruscotto, che era stata pulita con un prodotto per i cruscotti a base siliconica, non ci hai fatto caso, sono tantissime le variabili che possono dare quel difetto. Anche un'aria sporca all'interno della cabina? Diciamo che è un difetto riconducibile a una rosa di eventi, perciò identificare qual è l'evento, a meno che non hai proprio la cognizione del perché, mentre ti succede quella cosa, è difficile. Però ragazzi vi posso garantire che è comune, purtroppo è comune, purtroppo è diffuso, devi saperlo affrontare. Che poi intendiamoci ragazzi, questi sono avvallamenti, non sono quelli che noi chiamiamo in gergo gli sporchini, ovvero dei punti di polvere o cosa del genere. Esattamente, diciamo che lo sporchino, il punto di polvere, o un danno dovuto a qualcosa che è caduto sulla superficie verniciata, è un danno che sta in superficie sopra, si poggia sopra la verniciatura, anche quello si risolve, si carteggia, si lucida, però è un tipo di problema. Qui invece abbiamo affrontato un problema completamente inverso, cioè il materiale non si è acquagliato, quindi non è un qualcosa che sta sopra, ma è un qualcosa che è vuoto, manca, è convesso, va riempito. Quanti grammi avevi messo prima di verniciata? 140, noi ne mettiamo 70, più o meno. Ok, più o meno al 50. Più o meno al 50. Diluzione al 50%. Andiamo così. E via. Si gira, si gira. Giriamo bene. Su questa cosa già l'avevamo parlato. Si, si, nemmeno scorso video, ragazzi, anzi, vi lascio una scheda qui in alto a destra. Giriiamo. Abbiamo parlato di quanto è importante girare la vernice. Specie su colori come questo, cioè... Che è un po' un colore bellissimo. È bellissimo, ma ha detto che stanno 100 colori, ci saranno due o tre grigi metallizzati, il nero, il bianco, c'è il mondo qua dentro. Perciò va girato bene. Sì, queste sono delle tazze usegetta. Usegetta. Si chiamano PPS? Sì, il PPS, proprio nomenclatura PPS, è della E3M. Questo non è un 3M, è un'altra azienda, un altro brand che lo fa. Gelson. Però questo qua sì, credo di sì, della Gelson. Sì, perché come quello che ho io, sì. E questo qui più o meno ha la stessa funzione. Obbliga la vernice a essere filtrata tramite la retina interna e quindi garantisce una vernice pulita. Fantastico. Bellissimo. Dai, allora ti seguo, sono gasatissimo. Adesso diamo un altro passaggio, ancora uno, con un pannetto antipolvere specifico. Come vedete è retinato, questo per catturare tutte le impurità, tutte le piccole polverine, quello che il supporto può avere, diciamo, ci si può essere depositato sopra. Tanto qui, ragazzi, è una giornata di preparazione per 10 minuti di lavoro, perciò non abbiate mai fretta. No, non è vero. Sì, sì. È vero. Allora, c'è un po' di spolvero, quindi Domenico, ovviamente, visto che è molto scrupoloso, ha deciso di... Allora, mi fa piacere che oggi Matteo sei qui e sei in una delle giornate più critiche per la verniciatura, perché, ragazzi, il forno sta a 37 gradi e quindi andiamo incontro a tutte quelle dinamiche e, diciamo, di difficoltà. Cosa è successo qui? Abbiamo dato, come abbiamo visto prima, un po' di base e tutto quanto. Il troppo caldo non ha steso bene la base, l'ha asciugata troppo rapidamente, il che è rimasta un po' troppo, diciamo, bruciata, troppo bruzzolosa. Cosa si fa? Mai, mai evitare il problema. Il problema, se lo vedi molto, poi lo vedi peggio. Quindi, si dà una ciaccatina leggera, si ripulisce tutto, allunghiamo ancora di più la tinta e gli andiamo a ridare una mano, perché prima di dare il trasparente è essenziale che la base sia liscia, setosa, non può essere ruvida. Sennò la quantità di trasparente che devi dare, uno, è troppo e non va bene, due, comunque ti rendi da solo un lavoro difficile. Quando diciamo che è un lavoro di pazienza, quando diciamo che è un lavoro dove vince chi sbaglia di meno, eccolo qua dove fa la differenza, non avere fretta. Il supporto deve essere bello prima del trasparente. Il trasparente è la ciliegina sulla torta. Finché la torta non è perfetta, la ciliegina non si mette. Quindi pazienza, testa bassa, risolviamo questo problema che è un problema molto comune. Tutti i giorni qua, in queste due settimane, stiamo dipingendo a 37 gradi, quindi nulla di nuovo, tutto sotto controllo, andiamo a vedere come si fa. Fluida fluida, cos'è? Sì, di 100 grammi, 100 grammi. Reganze fa, metto 100 grammi. Ah, proprio è allungata al 100%. Sì, ma lo sai perché Matteo? Perché qua stiamo veramente in una condizione off-limits, cioè, scheda tecnica va bene, poi però c'è la professionalità. La professionalità che cos'è? Gestire la difficoltà avendo però una base tecnica. Non succede niente se tu vai al 100%. Se hai una condizione che esaspera questa cosa, quindi poiché il caldo me la brucia subito, io la diluisco ancora di più. Quell'extra caldo mi compensa quell'extra diluzione. E andiamo al top. E' l'ora del trasparente. Maschera. Ragazzi, fate come noi, eh. Qua, lo sfumicchi di base dentro una cabina professionale, non si fa ma ti puoi permettere di non avere la maschera durante la base il giorno che fa a 37 gradi. Ma il trasparente mettetevelo sempre. Seconda mano. Dai, dai, dai. Dai, dai. Doppia mano di trasparente fatta. Abbiamo adesso da sfumare i paraurti. Lo facciamo, ovviamente è stato dato trasparente, nelle parti dove il trasparente nuovo abbraccia quello vecchio, andiamo a fare una sfumatura con un po' di blending. Andiamo a vedere come si fa. qui invece è la tua. Senti, ma questa è già pronta, ma ancora non l'hai cacciata. Come mai? Quando mi ci fai fare un giro? Ragazzi, qua, qua ve lo dico, qua abbiamo esagerato. Qua quando proprio a testa non te dicevo vero, dico un agenzano. Qua dentro c'è sta quello che tutti vogliono mettere qua dentro. Ovvero? M3, raga, M3 e 36. Cioè tu hai messo il motore della M3 e 36 là dentro? Quello con 286 cavalli? Manovano. 6 cilindri in linea? Esatto. Kierler? Meraviglioso. Lo puoi vedere? Sì, sì. Lo puoi vedere? Tu non sei normale. Lo fammo vedere? Certo, adesso. Lo lo fammo vedere? Sì, 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 apri, apri, apri. C'è da dire pure una cosa, ragazzi, che tutte le macchine potenti, le più potenti, hanno i cofini che saprano bizzarri, no? Pure questa fa così. Questo qui è proprio lo swappone. Eh sì, eh sì. Allora, la signorina in questione ovviamente ospita il motore M3 e 36 monovanus, differenziale, cambio e tutta la parte, diciamo, della meccanica. Quindi è un M3 e 36 con la scocca di un e 30 coupé. Se la volete che va forte, ve ama, è lei. E resto, ciao. Beh, dai, com'è venuta? Allora, raga, oggi veramente era per pochi, eh? Però da là dentro siamo comunque usciti a testa alta, va bene? Temperature proibite, ma anche questa, sa, siamo portati a casa. Mi raccomando, raga, ricordatevi. Pure quando è tosta avete impegnato. Anzi, c'è più gusto. Dai, chiamo a te. Pensavo che volessi di iscriversi al canale. Beh, perché non siete iscritti? Raga, ve vengono a cappia uno per uno, ve lo dico. Ve vengono a cappia uno per uno. E poi seguiamo Carrozzeria Casparro su Instagram. Raga, seguitemi, ma non baccarcate. No. Perché a me... Ve lo dico subito. Seguitemi, mi fa piacere. Se sto qua, arci il telefono, do me non riesco a fare una cosa, io ti rispondo, zero. Io so, amico di tutti. Però non baccanete così perché veramente sto da solo. Guardate quante cose faccio, sto da solo. Perciò abbiate pietà. Bella, raga. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Sei forte, cacchio. Ma questo è troppo forte, sto Matteo. Dobbiamo fare una serie. On the road con Gasparro. Senti. Sentite, se vi piace, se vi piace, commentate. La famo davvero. Allora, andiamo in giro per i paesi, tipo giociaria, mezzo arniente, e poi sì, andiamo nelle carrozzerie, quelle proprio una scarpa e una ciabatta, e io andiamo a fare una verniciatura gratis noi. Tanto per vedere le fasce da cazzo che fanno quando esce la roba dal forno. Cessate? Andiamo, dai.